Cari amiche, cari amici, oggi 23 settembre del 2020 ricorre il novantesimo anniversario della dichiarazione di unificazione del Regno dell'Arabia Saudita, proclamata dal suo fondatore Re Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud. Purtroppo le circostanze ci impediscono di riunirci per celebrare insieme questo importantissimo anniversario, ma all'onore, grazie all'apprezzatissima iniziativa di sua altezza reale, il principe Faisal bin Sattam bin Abdulaziz Al Saud, ambasciatore del Regno in Italia, di poter esprimere i miei più sentiti auguri e le mie felicitazioni al Regno e all'amico popolo saudita. In un momento storico in cui tutte le più urgenti sfide, tra cui la lotta contro la pandemia del Covid-19 ad esempio, richiedono soluzioni solidali e coordinate, il Regno dell'Arabia Saudita ha confermato una volta di più, e mi permetto di dire egregiamente, il suo impegno a sostegno del multilateralismo. Nello svolgimento del suo ruolo di presidenza del G20 per il 2020, il Regno si è dedicato con grande energia alla promozione di iniziative che diano finalmente una risposta globale ed inclusiva alla lotta della pandemia del Covid. Nel ringraziare quindi la Presidenza Saudita per il lavoro che è stato svolto in modo veramente molto molto insostivo e puntuale, colgo l'occasione di farvi i migliori auguri per questi ultimi mesi di lavoro, in cui il Regno sta continuando a svolgere il delicatissimo compito di guidare la ripartenza sulla base dei principi della cooperazione e della solidarietà globale. La Presidenza del G20 è una grande responsabilità, ma rappresenta anche una grandissima opportunità in un momento in cui il Paese sta subendo le più importanti trasformazioni strategiche della sua storia recente, contenute tra l'altro dell'ambizioso programma di sviluppo Visione 2030. Il rapporto caloroso tra il Regno dell'Arabia Saudita e l'Italia risale alle origini del Regno stesso e si è consolidato poi nel tempo, nonostante gli importanti cambiamenti intercorsi proprio nella regione del Mediterraneo e del Medio Oriente allargato. Le eccellenti relazioni italo-saudite sono dovute a sempre più stretti e proficui rapporti in ambito economico e commerciale, ma soprattutto anche a un dialogo politico che si intensifica costantemente. La Vision 2030 guida gli sforzi per il progresso a tutti i livelli, aprendo nuovi orizzonti di cooperazione dai quali bisogna ripartire e soprattutto anche utilizzarli per rafforzare ulteriormente i legami e i rapporti bilaterali. Auguro quindi per il prossimo futuro una cooperazione sempre più forte e sempre più efficace, non solo nelle nostre relazioni bilaterali, ma anche tra l'Unione Europea e il Consiglio di Cooperazione del Golfo, il CCG, per affrontare le sfide continue e quelle emergenti, ponendo quindi la solidarietà e la sostenibilità globale come chiave di lettura e base di ripartenza. Con questi sentimenti rinnovo ancora una volta i miei più sentiti auguri di prosperità e di benessere al Regno e al Popolo Saudita, con l'auspicio di continuare insieme il nostro impegno comune per il dialogo e la difesa del multilateralismo. Buon anniversario!